Attenzione, domani e dopodomani sono previste tempeste geomagnetiche di forza eccezionale, in seguito alle esplosioni del Sole verso la Terra e si stanno dirigendo, diciamo, nuvole di plasma. Ci sono state due esplosioni di classe M forte e una di classe X massima nel Sole, quindi l'aumento di attività solare si aspettava, ma non di questa intensità. Quindi per 36-48 ore ci saranno tempeste geomagnetiche. Noi siamo fatti d'acqua e dentro il cielo dei nostri corpi ci sono continui processi oscillatori, quindi potrebbero esserci dei problemi, dicono gli esperti di varia natura, diciamo. Il Sole è una specie di calderon atomico, sempre in ebollizione, sul Sole si forma il cosiddetto vento solare che viaggia con una velocità di 300 km al secondo e, se non ci sono perturbazioni, entra nella magnetosfera terrestre. Di tanto in tanto, diciamo, affiora dalle profondità del Sole una sostanza fortemente magnetica, le macchie solari, e la loro energia è paragonabile allo scoppio di alcune centinaia di bombe ad idrogeno. Come di conseguenza c'è una forte uscita di protoni che viaggia a velocità di circa 400 km al secondo e arriva nell'atmosfera terrestre creando una perturbazione nel campo magnetico terrestre, il geomagnetic storm. Allora, questa è una delle tempeste più forti della storia, quella che vedremo nei prossimi giorni. Come agiscono sull'uomo? Dicono che gli esperti ci possono essere problemi cardiocircolatori, si abbassa le risposte ai farmaci, pare che possono aumentare i casi di morte improvvisa di infarto e ictus, aumenta lo stress, aumentano l'insonnia, le micranie, dolori articolari, e ovviamente non è che si può fare molto, diciamo, bisogna cercare di stare tranquilli, di riposare, di dormire, non bere alcolici, evitare di mangiare male e diciamo le persone, sembrerebbe che le persone particolarmente sensibili, in questi giorni non dovrebbero prendere l'aereo perché nell'aria si hanno meno difese, ovviamente si è meno protetti dallo strato di atmosfera. Vedremo che ci attenderà nelle prossime 36-48 ore. Ciao a tutti!